Musica Ehi piccolo youtuber come va? Come stai? Ah cosa? Nooo Sei incazzato perchè non riesci a giocare su Call of Duty? Sei incazzato perchè fai schifo giocare a Call of Duty? Sei incazzato perchè non sai come tenere in mano il joystick mentre giochi a Call of Duty? Lascia che ti aiuti io, lascia che ti aiuti io piccolo youtuber, lascialo! Oggi piccolo youtuber ti farò vedere come diventare forte come me a giocare a Call of Duty, oggi in particolar modo con lo sniper. Però prima di cominciare lasciate che vi dia un paio di consigli. Allora, soprattutto, prima di tutto e over tutto, il joystick. Non deve essere uno scaf del cazzo da 283 mila euro e 23 fottuti centesimi. Cazzo! Vedete io gioco con un joystick normalissimo, ma perchè? Perchè vi dico io? Perchè? Allora, se io sono un giocatore forte di Call of Duty, quando faccio il doppio salto, e ho l'agilità nelle dita per riuscire a spostare l'analogico comunque mentre salto. Non come gli scarsi che si copriano lo scaf perchè devono saltare tenendo le dita sull'analogico. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Se tu sei forte, se tu sei forte piccolo youtuber, e hai l'agilità nelle dita, non ti serve lo scaf, ok? Secondo consiglio, io, le cuffie, le cuffie, ma, ma, le cuffie. Allora, ragazzi, le cuffie, tutti di qua, di là, 250 euro, 150 euro, 100 euro. Ma che cosa? Le mie cuffie le ho pagate 2,50 euro, da how mai? Come potete vedere, sono delle normalissime cuffie del cazzo, fanno cagare. Però, però, fanno lo stesso, fanno lo stesso delle cuffie da 250 euro, ragazzi. Esatto. Ora, passiamo, passiamo subito al video, al video. Vi faccio vedere io come si snipera su Call of Duty. Ok, eccoci qua, ragazzi, vi farò vedere subito. Aha, 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 yeah. Vi faccio vedere subito come si fanno i quick scoop, i hard scoop, i jump shot, drop shot, trick shot. But, yeah, 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 uh-huh, 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 yeah. Yeah, 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 quick scoop, headshot, motherfucking bitch. Uh-huh, uh-huh, yeah, oh, yeah, yeah, no scoop. Uh-huh, oh, yeah. Yeah, 360, no scoop. Yeah, uh-huh, 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 yeah, yeah. Allora, venite fuori, venite fuori, sto che avete paura. Yeah, uh-huh, yeah, yeah, uh-huh, uh-huh, now, 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 now you can't see me, now you can't see me. Oh, 3-shot, oh, 360 no scoop. Oh, yeah, uh-huh, uh-huh, così forte che ho chiamato persino una serie. Uh-huh, uh-huh, yeah, yeah. Uh-huh, 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 uh ahaha ok and shot bitch mother fucker oh yes no scoop no scoop no scoop yeah ok guys no scoop oh yeah oh yeah oh ok it's my bedroom oh where is my bitches where is my bitches uh-huh uh-huh and shot bitch this is not my sniper the umbra but it's my penis my my dick oh yeah fucking so long uh-huh kill before the next one i have killed before uh-huh yeah yeah no scoop on the wall no scoop on the wall yeah finally no scoop oh cakey scoop yeah uh-huh catch it bitch yeah piccolo youtuber hai visto come si fa giocare eh piccolo youtuber eh piccolo youtuber hai visto come si fa giocare money 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 e ti ringrazio piccolo youtuber perché oltre al fatto che sei diventato molto più forte a giocare a color duty hai anche contribuito a rendermi più ricco con la tua visual con quelle visual che mi danno tutti i piccoli youtuber io divento ricco divento ricco cazzo porca puttana porca puttana mi hai fatto incazzare piccolo youtuber guarda di diventare forte ok piccolo youtuber del cazzo pezzo di merda ciao ciao Grazie a tutti.